Si terrà oggi alle ore 18 presso la sede della comunità montana del Vallo di Diano una seduta consigliare per discutere del nuovo pozzo petrolifero Pergola 1 previsto da Leni nell'omonima località di Marsico Nuovo in provincia di Potenza a pochi chilometri di distanza dal Vallo di Diano. Alla seduta consigliare oltre ai sindaci del comprensorio parteciperanno anche i rappresentanti dell'autorità di bacino regionale Campania Sud e Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, l'onorevole Simone Valiante, i consiglieri regionali Donato Pica, Antonio Valiante, Luigi Cobellis, Gennaro Mucciolo e Giovanni Fortunato, nonché il consigliere provinciale e sindaco di Polla Rocco Giuliano. Inoltre al consiglio dell'ente montano prenderanno parte anche gli esponenti del comitato No al Petrolio nel Vallo di Diano per ribadire la loro contrarietà al nuovo pozzo petrolifero previsto, peraltro a ridosso della catena montosa della Maddalena posta a spartiacque tra la regione Campania e quella della Basilicata è caratterizzata da un fitto reticolo di acque risorgive che vanno ad alimentare tra gli altri l'Agri e il Basento, i due maggiori fiumi lucani per ricchezza d'acque. Un incontro che servirà a definire chiaramente quali saranno le posizioni degli amministratori sollecitati anche dai cittadini per evitare che l'oro nero arrivi anche nel Vallo di Diano. Un mal d'Agri che non può infettare nemmeno il nostro territorio.